Lo street food reinterpretato da grandi chef, questo è il filo conduttore di Franciacortando, la manifestazione che il 14 e il 15 giugno porta alla scoperta della Franciacorta. Nella due giorni di eventi sarà possibile assaggiare i cibi da strada preparati da chef stellati, ma anche prendere parte a cene gourmet, raffinati ristoranti e visitare le cantine che per l'occasione resteranno aperte.